Il consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe, annuncia il parere favorevole della prima commissione su due progetti di legge a sostegno di eventi culturali della provincia di Teramo. Pepe ringrazia il presidente del Consiglio regionale Sospiri e i consiglieri Paolucci, Mariani, Quaresimale e il sottosegretario D'Annuntis per la piena condivisione dell'iniziativa legislativa. Voglio ringraziare i tanti colleghi, in maniera particolare il presidente Sospiri che ha raccolto il mio invito per il finanziamento di questi due importanti progetti culturali per la provincia di Teramo e per l'intero Abruzzo. L'uno per finanziare il premio di Venanzo, siamo quest'anno la 24esima edizione di questo importantissimo premio che riguarda la cinematografia e per questo voglio ringraziare Teramo Nostra che è l'associazione che organizza questo premio da 24 anni. E poi abbiamo inserito un altro provvedimento per finanziare l'associazione Pigro, quello che ricorda ogni anno Ivan Graziani e su questo tema abbiamo investito e abbiamo finanziato 8 mila euro. Poi i provvedimenti passeranno alle altre commissioni e ci auguriamo presto l'approvazione definitiva in aula.